Da Piazza San Francesco si è mossa a suon di musica e a passi di danza la Fiumana che ieri pomeriggio ha aperto la dodicesima edizione del Festival delle Culture promosso dall'assessorato alle politiche per l'immigrazione. L'evento che quest'anno registra la partecipazione di 67 associazioni e comitati, 27 classi di scuole primarie e medie di Ravenna, Cervi e Russi e diversi servizi e istituzioni cittadine come la Biblioteca Oriana e Città Attiva, l'Università di Bologna, regalerà alla città una tre giorni di appuntamenti per approfondire il tema delle cittadinanze. E' uno spazio, un tempo di incontro, un tempo di scambio, di creazione. E penso che faccia bene a tutti, ma proprio a tutti. E penso che Ravenna se ne stia accorgendo sempre di più, ecco. E la musica, la danza che caratterizzano soprattutto questa apertura con la Fiumana? Certo, le musiche e le danze sono quelle espressioni che più vogliono portare le associazioni straniere. scelgono così di autorappresentarsi e ci contaminano, nel senso che non è solo una rappresentazione, poi diventa una balera e tutti si balla insieme con i ritmi diversi del mondo. Il Festival delle Culture è anche appuntamenti, approfondimenti, un'occasione per capire un po' qual è la realtà di oggi. Certo, c'è anche un tempo dedicato alla parola, al pensiero. Parleremo di cittadinanza e sport. Arriva Fiona Mei, Alessio Viola e Massimo Antonelli, che è il coach dei Tantan Basket, la squadra di minori stranieri che ha dovuto lottare per partecipare ai tornei nazionali e internazionali perché senza cittadinanza. Domani sera Gabriele Del Grande, il tema è intenso e forte legato alla questione delle migrazioni di tanta gente che fugge da disperazione, guerra, violenza. E Gabriele Del Grande è un testimone, un giornalista di frontiera straordinario. E chiudiamo domenica sera con Riccardo Iacona e insieme a lui giovani, ragazzi e ragazze di seconda generazione, ma non solo di seconda generazione, anche approdati grandi qui che vivono in questa città e ci sarà uno scambio in questa dimensione.